Tiene ancora a banco la questione loculi a Giuliano. Negli ultimi giorni sono stati affissi in città manifesti proprio sul caso da parte dell'Associazione Giuliano Ogni Giorno, che intende fornire assistenza legale a coloro che hanno versato quote per ottenere un loculo al cemitero, ma non hanno poi più avuto risposte da parte del Comune in questi anni. C'è risultato veramente un tema che premeva molte persone, ci sono stati riportati molti casi e comunque c'era una manifestazione di interesse da parte di molte persone e quindi abbiamo proceduto in questo senso muovendoci su un'azione legale che sembrava essere la cosa più opportuna da fare. L'Associazione ha deciso di fornire assistenza legale gratuita a beneficiari e non. Stiamo fornendo un'assistenza legale gratuita ed è fondamentale sottolineare questa cosa, dove andiamo a tutelare sostanzialmente quelli che sono tutti coloro i quali sono risultati assegnatari nelle graduatorie definitive, ma anche i non assegnatari, nel senso di sollecitare per quanto riguarda l'assegnazione dell'oculo o colombario come previsto dalla graduatoria e di far riavere come un diritto a coloro i quali hanno versato dei soldi quelli che sono gli importi che attualmente risultano ancora giacenti nelle casse comunali. Abbiamo fornito questo supporto presso il nostro sportello sito a Via Vieri Mario Pirozzi 20 presso il CAF CISAL. Tutti i venerdì dalle 16 alle 19 possono passare qui in sede per poter portare avanti questa iniziativa. L'assessore che ha la delega a Tartarone ieri in question time ha detto che questi manifesti che sono usciti sono completamente falsi. Assolutamente no, non sono manifesti falsi, sono manifesti che vogliono dare una risposta a tanti cittadini che aspettano senza nulla di fatto da diverso tempo, anzi da anni.